La macchina vaccinale pugliese continua a viaggiare a velocità sostenuta e non ha fatto soste neanche nel periodo di Natale. Mentre proseguono le somministrazioni delle terze dosi, con molti hub che sono rimasti aperti anche nei giorni di festa, la regione si conferma al primo posto in Italia per copertura ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni, con un dato pari al 22,2% del totale. Ad influire su questo primato il metodo delle somministrazioni scuola per scuola, partito lo scorso 16 dicembre, con l'obiettivo di estendere il più rapidamente possibile la campagna anti-covid ai bambini in età pediatrica. Oltre che negli istituti scolastici e presso gli studi medici dei pediatri, le vaccinazioni per le fasce più giovani della popolazione possono essere prenotate anche attraverso il sito internet La Puglia Ti Vaccina e presso le farmacie convenzionate. Un servizio che dalla giornata di ieri è stato esteso anche ai ragazzini pugliesi tra i 12 e i 15 anni che devono ancora ricevere la terza dose. Unica condizione, specifica una circolare firmata dal Dipartimento Regionale Protezione della Salute, l'aver completato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Per procedere con l'appuntamento presso gli hub del territorio sarà sufficiente collegarsi al portale istituzionale, recarsi in farmacia o rivolgersi ai CUP, i centri unici di prenotazione. Inoltre, è specificato nella circolare della regione, al fine di agevolare la somministrazione delle dosi booster per i ragazzi, verranno attivate apposite agende di prenotazione dedicati alla fascia 12-15 e verranno organizzati appositi open day presso i centri vaccinali. Le vaccinazioni partiranno lunedì 10 gennaio.